Un segnale che una persona, che un cristiano, non sa accusare se stesso è quando è abituato a accusare gli altri, a sparlare degli altri, a mettere il naso nella vita altrui. È un brutto segnale quello. Io faccio questo? Una bella domanda per arrivare al cuore. Chiediamo oggi al Signore la grazia. La grazia di trovarci davanti a Lui, con questo stupore che dà la Sua presenza, e la grazia di sentirci peccatori, ma concreti. E dire come Pietro, allontanati da me perché sono un peccatore.